L'infinita battaglia tra maggioranza e opposizione, praticamente su tutto, gli uni contro gli altri e ancora di più nei giorni caldi del varo del bilancio di previsione 2015, illustrato oggi in commissione dall'assessore Ferretti. Anche di questo si parlerà stasera alle 21 a Parma Europa a primo piano, con in studio il capogruppo dei 5 Stelle, Marco Bosi. I conti comunali andranno in approvazione in consiglio comunale entro luglio. Ci sono i servizi essenziali, tagliati per una quota dello 0,11%. La qualità delle prestazioni, secondo il Comune, non sarà intaccata. Ma sugli asili c'è anche la questione referendum. Oggi è stata nominata la commissione che dovrà decidere sull'ammissibilità della consultazione. Ci sono poi gli sgravi fiscali per Tasi e Imu. Chi ne potrà usufruire saranno le famiglie numerose. E i cittadini colpiti dall'alluvione del 2014. Tagli per 3,5 milioni e critiche della Lega Nord, che dice alla fine i criteri escluderanno la quasi totalità dei cittadini parmigiani che continueranno a subire la tassazione locale più alta della regione. Poi le opere pubbliche, investimenti contenuti, ma diverse riqualificazioni previste, come aveva anticipato il sindaco Pizzarotti nella scorsa puntata di Parma Europa. Dall'ex Aridani a Villa Parma, poi l'illuminazione pubblica con ottimizzazione e risparmi e il progetto Smart City, che riguarda il centro storico con la riqualificazione di parte di Via Mazzini e Via Repubblica, un passo verso una possibile pedonalizzazione. Stasera in TV anche altri temi caldi, rifiuti inceneritore, i concerti in Piazza Duomo, le scelte del Comune legate al nuovo Parma Calcio. In diretta alle 21 a Parma Europa.